Fissata a Salerno per il 25 settembre presso l'aula bunker di Via del Tonnazzo l'udienza preliminare in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio per associazione a delinquere, usure e distorsione nei confronti degli Adamo Francesco, Battipaglia Nicola, Bifulco Enrico, Casella Ciro, Cibelli Antonio, Iovine Ettore, Marandino Emanuele, Marandino Giovanni, Pingaro Francesco, Senatore Vincenzo, Squecco Roberto. Gli imputati appartenenti al clan Marandino Giovanni della cosiddetta nuova camorra organizzata ed operanti in tutta la provincia di Salerno sono ritenuti colpevoli dal PM del reato di estorsione ed usura ai danni e nei confronti di titolari di esercizi commerciali operanti nelle città di Capaccio, Battipaglia e Agropoli e nei comuni vicinori. In questo contesto SOS Impresa Salerno, presieduta dall'avvocato Tommaso Battaglini dopo aver raccolto le denunce degli imprenditori attraverso lo sportello antiracket ed antiusura dell'Unione dei Comuni dell'Alto Cilento, farà richiesta con il proprio legale di fiducia, avvocato Antonio Picarella, di costituirsi parte civile nell'udienza preliminare contro il clan Marandino Giovanni. SOS Impresa Salerno è un'associazione che assiste gli imprenditori vittima di usura e racket attraverso gli sportelli presenti ad Agropoli, Battipaglia, Eboli e Nocera Inferiore. In una lettera indirizzata al commissario per le iniziative antiracket ed antiusura della Regione Campania, SOS Impresa Salerno ha invitato l'ente a costituirsi parte civile in giudizio, numero verde dell'Associazione 800 900 767.